Ora il Milan ha capito bene. Ma prima di dirvelo, se siete tifosi rossoneri da più di 20 anni, cliccate sul pulsante Mi piace e scrivete i Milan nei commenti. Il Milan potrebbe tentare di ingaggiare il difensore del Brest Lilian Brassier, mentre i rossoneri cercano di dare spessore alla difesa nella finestra di trasferimenti di gennaio. Come riporta Gianluca Di Marzio, i rossoneri hanno individuato nel difensore classe 1999 una buona opzione per il mercato invernale, in quanto capace di giocare sia da centrale che da terzino-sinistro. Sebbene il Milan abbia un disperato bisogno di difensori centrali, a causa della crisi di infortuni che ha colpito il Milan in questa stagione, c'è anche la volontà di ingaggiare un terzino-sinistro di riserva da alternare a Tio Hernandez. Inoltre, Brassier può giocare sul lato sinistro di una difesa a tre, il che darebbe a Stefano Pioli una maggiore flessibilità tattica per il resto della stagione. Brassier è stato paragonato ad altri difensori mancini come David Alaba del Real Madrid e Pris nel Kimpembe del Paris Saint-Germain. In questa stagione ha collezionato 15 presenze in Ligue 1 con il Brest e ha segnato un gol, contro il Leavre all'inizio della campagna. Ha rappresentato la Francia Under-19 e Under-20, ma non ha partecipato all'Under-21 e non ha rappresentato la nazionale maggiore. Il Brest è attualmente quarto in Ligue 1 e sta vivendo una stagione molto promettente. Ora tocca a voi, sarebbe una buona opzione per il Milan, lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale per continuare a ricevere i prossimi aggiornamenti sul Milan.